E ragazzi prima di iniziare volevo chiedervi un favore Questa volta ragazzi lasciate un bel vi piace Cerchiamo di superare i 4500 Perché questa è una serie della madonna E poi perché c'è un ospite che è un campione Come invece seconda cosa vi volevo ricordare come sempre Di passare da ulticoinbank.com E utilizzare come discount code, come codici coupon, i codici Axel con 2 Per avere un ulteriore sconto E ragazzi detto questo godetevi il video E ciao a tutti amici Io sono Axel e oggi Oh my god Oggi dopo ormai mesi Ho l'onore di poter dire non sono da solo Poiché infatti sono in compagnia del grandissimo Esector Ciao ragazzi oggi siamo qui con una sfida epica Tra l'altro io vi sto cagando addosso Perché andiamo a mettere in palle di quei giocatori Perché infatti ragazzi Oggi siamo qui a presentarvi il mio secondo episodio sul canale della serie Battaglia Navale Che sono fierissime di aver portato in Italia E però adesso il grandissimo Esi mi ha fatto notare una cosa Perché come voi ben sapete in questo mese non sono stato a casa E non ho dato retto a Youtube E ho controllato su Youtube Ora è pieno di video di battaglia navale Chiamati anche Search and Discard Però frega cazzi e fonte sega Noi siamo i più pro Noi abbiamo la possibilità di farlo oggi E quindi ci siamo Esattamente Allora ragazzi io andrò a mettere in palio Robin, Sif, Shaqiri e Pogba E naturalmente Invece io andrò a mettere in palio Rodriguez, Team of the Season, Cavani, Rojan E poi Hulk che ai tempi avevo pagato 900 mila Adesso non costa un cazzo Ora ne costa 220 Però ragazzi questi si chiamano dettagli Modulo che utilizziamo qual è? Allora il modulo che utilizziamo dovrebbe essere Aspetta che mi è uscito dal team vietato al party Quindi non lo vedo E' il 5212 E' il 5212 Quindi modulo ignorantissimo Direi di andare a sistemare i giocatori ragazzi Non voglio seguire più la tattica che ho utilizzato Quei Granals perché Non so se mi ricordavate come era finita Un qualcosa di imbarazzante Quindi oggi totalmente a caso L'unico giocatore che non vorrei perdere è Rodriguez Poiché lo uso anche E io direi Così è troppo scontato E' scontato così? No non è scontato No 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 Così ricorda troppo Dai io ci sono Credo di averla fatta Raga io l'ho messa a caso L'ho messa Che cazzo me ne frega Io ho provato a seguire anche questa volta una logica Cerchiamo di vincere O meglio di eliminare più giocatori possibili Dal grandissimo Luca Perché è Luca? Pacchetto da 7500 si sciabola Aspetta apriamo insieme dai Cazzo l'ho già aperto L'ho già aperto Apro io adesso E troviamo Abdenur Oh spanta Ho tornato tra ore Ma che cazzo è? Valutato? 78 E andiamo così ragazzi Quindi inizieremo noi Direi di partire Allora Allora zio Zio Ti frego se me lo c'entra al primo Cazzo gli stacco tutto Non si può al primo dai Allora andrei Ah sa Ah sa Ah? Sa Ah sa Ah sa Adesso te lo dico chi è Si chiama Vamritniak Si chiama Vakaboh Che palle E già anche qua iniziamo a fare i primi infetti Ok cominciamo Spatta Allucinare Oh mia mia Io ti dico Cici destro Sei sicuro? Si Minchia ragazzi Iniziamo già così L'ho preso Cavani rosa Ma dio mio Che due palle Io faccio schifo in sta cosa E abbiamo appena scartato Cavani Ma dio Eh dio mio È al primo colpo Così non ci posso credere Ragazzi iniziano a piovere le madonne Iniziano a piovere le madonne Allora Mio turno Direi A tt sinistro Yes E abbiamo preso qualcuno Chi è? Dimmi a Robin Ti prego Porco zio No no Pogba E andiamo con Pogba Pogba Va bene Dai piano piano Ci avviciniamo a Robin E buttalo via con la tt sinistra Mi l'avevo anche dato un pacchetto gratis Numero possessori 1 God Così almeno hai ricordo Ah no Io ti dico Difensore centrale sinistro No No non ci credo Te l'ho preso Si chiama Egan È valutato 61 E andiamo a scartarlo Lo scarto più che volentieri Buono così Sono quasi sicuro che qui ci sia qualcuno Difensore centrale Centrale No mannaggia Aspetta aspetta Questo respiro di solietro Aspetta aspetta Si chiama Triantefalleopulos E raga È impronunciabile Colui che non veniva mai interrogato Asa No 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 Asa Un certo fake Valutato 63 68 di velocità Quindi abbastanza scarso Ma dove li ha messi Ma dove li ha messi E ragazzi Per ora stiamo andando meglio noi Devo dire così Allora No Se hai fatto così Sei stato furbo ATT destro Ehi 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 Ciccaui Già la vacca Quel silenzio mi ispirava Vacca boh ragazzi Io non so dove li ha messi Portiere Eh portiere no Abbiamo un certo Walker In porta Ma dove li ha messi Qui Ma io non so E via Walker Non puoi averli messi Tutti in mezzo al campo Non è possibile Ada Samuel Ma ragazzi Siamo scandalosi Tranquillo Facciamo schifo Imbarazzati Non riusciamo a beccarli Eh ora me lo becchi Adesso te lo becco Cioè non può averlo messo lì Cicci Ti dico l'altro Cicci Puttana vacca boh Rodriguez Sì Questo fa male Me lo sentivo Vacca No ragazzi È top 950 mila crediti Devo scartarlo Sei stato furbo però Perché ho detto Cioè io ho preso il Cicci Non può averlo messo di fianco Eh però poi intanto L'hai detto Mannaggia Non li trovavo più Ho detto Sarà tutti in mezzo Perché Ti dico Dicci destro Stavo sfacendo le mie cuffie A parte che Prima ho rotto la luce Cosa è successo? No no Spera mi è caduto giù tutto Sì Robben Dimmi che Robben Dimmi che Robben Robben E andiamo così E gli buttiamo via Robben Ma vai Ma vai 94 di tiro Non ho il coraggio di fare Anche qua Numero possessore 1 Ah quel famoso Robben Che è trovato nel Paco Benigni Sì è quello lì Quello lì Quel famoso Robben E ancora Ho ancora più onore Guarda Lo scartano Andiamo C'ho in mente quel postino lì Però non voglio dirlo Perché mi ispira un attaccante destro Abbiamo un certo Minchia Sisteva ha lottato 60 con 87 di velocità Però Robben Robben Allora Allora ragazzi È troppo scontato Dir portiere No Non lo dico Portiere C o c Allora C o c Vada via Il kill Miki Palle Miki Tarjan E va bene Dai Non è male Almeno quello Ho tenuto un or Non so perché Ma l'abbiamo tenuto E adesso Allora Allora Io il difensore centrale Sinistra e destra Non te lo chiamo Ho detto solo il centrale No mi hai detto il sinistro Ah il sinistro ti ho detto Io ti chiamo il difensore centrale 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 Sei sicuro? Non l'avrò preso male Sì sì Sono sicuro E non c'è niente C'è un certo arabo Non gli ho detto neanche il nome Buono così Restiamo ancora Regà Ho già capito Che vado a perdere anche i shakiri Ho già capito tutto Allora Un abbiamo messo i due uguali Ti ho già chiamato centrale Centrale sinistro Eh no Cioè se ne abbiamo messo i due Perché due uguali? Ti stai fregando da solo eh Madonna mi sono fregato così Ragazzi mi sono appena fregato da solo Devo trovarglielo adesso Devo trovarglielo adesso O magari sta facendo così raga Perché non l'ha messo lì così Dopo io gliela chiamare È tutto un gioco di straccia Sto pensando Centrale centrale sinistro Non te l'ho detto giusto? No Centrale centrale sinistro Va bene Te lo vado a prendere subito Si chiama Cristo Dolopoulos No 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 Ma non l'hai messo lì Quindi io ti chiamo il C.O.C. È quello che ti voglio chiamare da una vita C.O.C. Eh non c'è ancora niente Mi dispiace C'è un certo Carsia Quindi scartiamolo Ma dov'è ma dov'è Quanti giocatori hai ancora? Eh tre Tre ne ho E tre anch'io Allora mi dici i ruoli C.C.C.C. E P.Portiere No non puoi avere C.C.C.C. Eh sì C.C. destro hai C.C. destro e C.C. sinistro Te l'ho appena chiamato C.C. sinistro No mi hai chiamato il D.C. Io avevo detto C.C. sinistro Porco Dio C.C. sinistro te lo chiamo adesso 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 Eh ragazzi non avevo capito Però tanto non cambia niente Perché sia là che qua C'ho due C'ho due giocatori di merda E quindi vanno via E quindi Dici destro Eh ragazzi Mi son fregato da solo Dicendo ne abbiamo due uguali Ma posso essere così idiota? L'hai messo lì? Mi son fregato da solo Il mio caro ULT Si Ha pagato 900.000 crediti Dio mio devo scartarlo a 10 Vabbè mi tengo Shakiri E raga E l'abbiamo scartato Mamma mia Sto grondando Sto veramente grondando Codias ragazzi Camerini Saranno 40 gradi E abbiamo perso un'altra battaglia navale Che lo sa Se prima o poi riusciremo a vincerla E ragazzi Detto questo video È terminato Vi invito Mi raccomando A passare dal canale Di Nicola Link lo trovate in descrizione Comunque credo Lo conoscete già Si chiama Esector E nulla Io non ho più niente a dire Tu vuoi aggiungere qualcosa? No guarda Sono costernato Dal giocatore Che sono andato a perdere Io non ho perso i tre Quindi fai un po' tu Robin Robin si prega Colpa al cuore Colpa al cuore Vabbè è buono L'abbiamo ferito Diciamo così Quindi ragazzi Detto questo Io non ho più niente a dire Io vi saluto E vi dico Potente a parlare ragazzi Da Axel E da Esector Ciao campioni